Aruba Supervisore 360 è il nuovo servizio gratuito che permette a professionisti e a commercialisti di collaborare nella gestione di PEC e fatturazione elettronica. Chi ha partita IVA delega i servizi e il commercialista li supervisiona. Risparmia tempo, energie e riduci gli errori. Migliora la collaborazione con Aruba Supervisore 360. L'occhio in più sul tuo lavoro.